Parola d'ordine e ripartenza, non solo in Serie A, ma forse inaspettatamente anche in Serie B e C. Nel dettaglio c'è tempo fino al 20 agosto per completare i tornei e la stagione 2019-2020 si chiuderà il 31 agosto. Play-off e play-out invece verranno discussi solamente in caso di una nuova sospensione. Per quanto riguarda la ripartenza, la Lega Serie A e la FIGC non hanno cambiato idea. La volontà resta infatti quella di tornare in campo il 13 giugno e concludere i tornei entro il 2 agosto. Soddisfazione al termine del Consiglio federale tra le prime due serie del campionato italiano, un po' meno in Serie C, la cui proposta presentata dal presidente Francesco Ghirelli era quella di sospendere il campionato. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ha commentato Ghirelli, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali. Non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute. Quello che si sa del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Mi auguro che io abbia torto rispetto alla situazione. Capitolo Serie D. L'unica notizia ufficiale al momento è la sospensione del campionato, il che avvicina sì il Palermo sempre più alla Serie C, ma non ancora ufficialmente. In Casa Rosa Nero, infatti, prima di far festa si dovrà aspettare il Consiglio della Lega Nazionale di Lettanti, che venerdì esprimerà le proprie promosse e retrocesse, con la ratifica che verrà fatta al prossimo Consiglio federale. Grazie. Grazie.